In Italia siamo arrivati negli anni passati ad un ottimo punto, siamo stati assolutamente uno dei primi mercati europei per qualche anno e poi ci siamo fermati. Fra i primi ad avviare, ad aprire un mercato che poi in realtà abbiamo lasciato aperto per altri, quindi non abbiamo sfruttato l'opportunità. Oggi sembrerebbe effettivamente che invece questo mercato con nuove installazioni, nuove regole, sia per ripartire, ci sta lavorando a più livelli, una bozza di decreto che si sta cominciando a definire, quindi insomma stiamo finalmente ripartendo. Noi stiamo ragionando anche di portare avanti altre iniziative a Napoli, tra l'altro come F Solare, quindi ci puntiamo molto.